Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato lo stato dell'arte e dei probabili sviluppi futuri delle ricerche sulla decodifica del pensiero, dei ricordi e dei sogni oltre alla trasmissione del pensiero con la tecnologia, cioè verrà trattato la telepatia artificiale con gli usi positivi che si prevedono, oltre alle problematiche che essa porterà. Per telepatia, detta anche trasmissione del pensiero, si intente l'ipotetica capacità di comunicare con altre persone mediante la mente, cioè senza l'utilizzo della voce o di strumenti. Il termine telepatia venne introdotto nel 1882 da Frederick William Henry Myers uno psicologo e parapsicologo britannico, fondatore della Society for Psychical Research. Con la precognizione e la chiaroveggenza, la telepatia fa parte delle cosiddette percezioni extrasensoriali o ESP e più in generale, di quello delle presunte facoltà paranormali e rientra perciò nel campo di indagine della parapsicologia. La telepatia è rimasta a lungo confinata alla letteratura parapsicologica o fantascientifica, come sogno affascinante ma del tutto impossibile da realizzare nella realtà. Ma negli ultimi anni però la tecnologia delle cosiddette interfacce cervello-macchina, o brain-to-brain, ha fatto notevoli progressi. La possibilità di controllare dispositivi con la mente, e di connettersi con un altro utente in tempo reale, da remoto e wireless sembrava irrealizzabile, ma la ricerca sta lavorando per rendere possibili queste fantascientifiche prospettive che potrebbero aprire la strada a particolari forme di telecinesi e telepatia. Oggi la tecnologia permette di vedere con relativa facilità cosa accade nel cervello, anche se non siamo ancora in grado di comprenderne a pieno i meccanismi, o di interagire con il suo funzionamento. Tanto che si è arrivati a concepire la creazione di protesi cerebrali in grado di potenziare la mente e correggerne i difetti. Cioè se una parte del cervello funziona male a causa di un incidente o di una malattia neurologica, sarà possibile sostituirla con una protesi come si fa per gli arti. La cosa può sembrare pura fantasia, ma invece una prospettiva a cui stanno già lavorando ricercatori come Michele Migliore, Visiting Scientist al Department of Neurobiology della Yale University degli Stati Uniti e Visiting Professor di Cibernetica al Dipartimento di Matematica dell'Università di Palermo. In questo campo si è addirittura creata una cultura del fai-da-te, con obbisti che si dedicano a stimolare elettricamente i neuroni del proprio cervello per conseguirne supposti benefici, al punto che di recente alcuni scienziati hanno proposto che la vendita di apparecchi di questo tipo venga regolamentata per evitare che la gente possa farsi del male. Grazie alla tecnologia per la prima volta si è riusciti a realizzare praticamente un esempio di telepatia, trasmettendo, via internet, un pensiero da un cervello umano a un altro che si trovava a più di 5.000 km di distanza. A riuscirci è stata un'equipe internazionale di ricercatori nel corso di una collaborazione tra il BET Israel di Connes Medical Center di Boston, i laboratori Starlab di Barcellona e l'azienda francese Axilum Robotics. Forte sviluppo ha avuto anche la lettura degli impulsi cerebrali allo scopo di impartire comandi mentali per controllare computer, tablet, protesi bioniche o altri dispositivi, come avviene in alcuni dispositivi già in vendita, come il MindRDR, sensore che permette di comandare i Google Glass senza mani, usando solo il pensiero. Ma la scienza si è spinta anche oltre, con un esperimento in cui un ricercatore è riuscito, via internet, a controllare il braccio di un'altra persona e da farlo muovere. Cioè per la prima volta, due ricercatori sono riusciti a mettere in contatto via internet i rispettivi cervelli, in modo che uno dei due riuscisse a muovere la mano dell'altro. L'esperimento è stato condotto presso il laboratorio sulla cognizione e la dinamica corticale dell'Università di Washington dal professor Rajesh Rao con l'aiuto del professor Andrea Stocco, che è un italiano. L'esperimento è stato condotto nel 2013. Rao si è seduto di fronte al computer e ha indossato una cuffia elettroencefalografica che rilevava l'attività del suo cervello. Stocco sedeva in una stanza diversa, dalla parte opposta del campus universitario. Sulla sua corteccia motoria sinistra, cioè la parte del cervello che controlla il movimento della mano destra, era stata puntata un'apparecchiatura per la stimolazione magnetica transcranica. Via internet, i segnali provenienti dal cervello di Rao venivano inviati a quello di Stocco. Per verificare l'efficacia della connessione, si è utilizzato un videogioco in cui si doveva sparare a dei bersagli. Per giocare, a Rao bastava immaginare di premere il pulsante di fuoco, senza farlo sul serio, mentre a premerlo effettivamente era Stocco, che non vedeva lo schermo. Stocco ha detto di aver provato la sensazione di un movimento involontario dovuto a un tic. Questa è stata la prima occasione in cui si è realizzata un'interfaccia tra due cervelli umani, utilizzando tecnologie semplici e consolidate come l'elettroencefalografia e la stimolazione magnetica transcranica, che permette di stimolare i nervi senza contatto diretto, usando solo campi magnetici. Stocco ha scherzato parlando di un esperimento di fusione mentale vulcaniana, un riferimento a Star Trek, ma i due scienziati sottolineano che il metodo non consente né la condivisione di pensieri, né il controllo del corpo altrui contro la sua volontà. Questa tecnologia in futuro potrebbe consentire a un esperto di trasmettere a una persona i giusti movimenti per risolvere un'emergenza, o per apprendere un'attività come suonare uno strumento o guidare un veicolo. I due ricercatori hanno ora in programma esperimenti per scambiare tra i cervelli informazioni più complesse in modo bidirezionale. Insomma, è evidente che i tempi sono maturi per provare a leggere e trasmettere qualcosa di più di un impulso di movimento. Come ha detto il dottor Alvaro Paschiù a Leone, direttore del centro Berenson Allen per la stimolazione cerebrale non invasiva presso il Bet Israel di Connes Medical Center di Boston, volevamo scoprire se fosse possibile leggere l'attività mentale di una persona e iniettarla in una seconda persona, tutto questo a grande distanza sfruttando le linee di comunicazione esistenti. Cioè la tecnologia è in grado di sviluppare un esperimento che permette di fare a meno di parlare o di digitare su una tastiera, stabilendo così una comunicazione diretta, da cervello a cervello, tra due individui lontanissimi, ad esempio che stessero uno in India e l'altro in Francia? La risposta è stata, sì. Paschiù a Leone insieme ai colleghi Giulio Ruffini e Carles Grau dello Starlab, e Michel Berg dell'Auzilum Robotics, è riuscito a creare l'equivalente di un SMS telepatico, trasmettendo le parole hola e ciao. Attraverso un collegamento da cervello a cervello mediato da computer, per mezzo dell'elettroencefalografia e della stimolazione magnetica transcraniale. In passato si era già riusciti a usare l'elettroencefalografia per inviare comandi a un computer, ma è la prima volta che a ricevere i comandi c'è un secondo cervello umano. Il messaggio è stato codificato numericamente, inviato via email, e trasmesso al cervello del ricevente, che lo ha percepito sotto forma di lampi luminosi alla periferia del campo visivo. Per ottenere il messaggio il ricevente ha dovuto decifrarne il codice numerico, con una percentuale di successo dell'85%. Si tratta di un metodo ancora molto rozzo, ma i ricercatori ritengono che sia molto importante come prova della possibilità di trasmissione diretta, e che in futuro sarà possibile inviare a distanza pensieri complessi, senza la necessità di scrivere o parlare. Ultimamente due studi pubblicati sulla rivista Elite hanno realizzato la prima comunicazione senza contatto tra menti umane e tra mente computer, sfruttando le caratteristiche peculiari dei metamateriali. Un materiale creato artificialmente con proprietà elettromagnetiche particolari che lo differenziano dagli altri materiali. Le caratteristiche macroscopiche dei metamateriali non dipendono solo dalla sua struttura molecolare, ma anche dalla geometria con cui viene realizzato. In altri termini, le proprietà di un metamateriale derivano dalla sua struttura piuttosto che dalla sua composizione chimica. Il primo lavoro è stato guidato da Tai Jun Kui dello State Key Laboratory of Millimeter Wave. Il suo team ha sviluppato una metasuperficie come interfaccia cervello-computer che si è dimostrata in grado di controllare in modo non invasivo la sintesi delle informazioni e la trasmissione wireless tra operatori. Per stabilire la connessione, l'utente si posiziona davanti a uno schermo in cui è possibile visualizzare diversi comandi e, semplicemente fissando uno di questi comandi, fa la propria scelta. I segnali cerebrali vengono decodificati grazie a un elettroencefalogramma, ed in base a questa decodifica, viene costruito il segnale relativo al comando selezionato che viene inviato agli oggetti controllati senza necessità di attività muscolare da parte dell'operatore. Questo approccio, riportano gli scienziati, è stato impiegato anche in una comunicazione mentale tra due persone. In questo caso il meccanismo si è basato su una interfaccia grafica di testo, in cui i pulsanti visivi sono codificati direttamente come una sequenza specifica binaria, formata da 0 e 1. Il mittente invia lettere semplicemente guardando i pulsanti sull'interfaccia. La lettera selezionata dallo sguardo viene decodificata dall'elettroencefalogramma e codificata elettronicamente in codice ASCI, la metasuperfice riceve ed invia questa informazione. Quando il segnale viene ricevuto dalla metasuperfice collegata al sistema cervello computer del destinatario, questo rielabora il segnale che viene visualizzato sull'altra interfaccia grafica. Nel secondo studio, guidato da Shaobo Ku Jafu Wang e Cheng Weiqiu dell'Università Nazionale di Singapore, i ricercatori hanno compiuto un passo significativo verso il controllo mentale remoto in tempo reale con i metamateriali. I ricercatori hanno infatti sviluppato un framework in grado di raccogliere le onde cerebrali dell'utente e rielaborarle come segnali di controllo delle metasuperfici. Trasmesse al controller via Bluetooth, le onde cerebrali dell'operatore così potevano gestire direttamente l'oggetto da controllare. La programmazione in loco, precisano gli autori, potrebbe permettere la realizzazione di metasuperfici programmabili con funzioni multiple, commutabili e ulteriormente integrate con sensori. La possibilità di autoadattarsi migliora significativamente il tasso di risposta del dispositivo, eliminando la necessità del coinvolgimento umano. Il design finale può essere inoltre personalizzato per incrementare la precisione di queste apparecchiature. I ricercatori contano di proseguire gli studi e combinare questo approccio con nuovi algoritmi intelligenti, così da ottimizzare i processi di controllo delle metasuperfici funzionali o multifunzionali. L'obiettivo finale è quello di sviluppare piattaforme controllate direttamente dalla mente dell'utente, in tempo reale e senza connessione fisica. Questo lavoro, commentano gli scienziati, potrebbe aprire la strada a una nuova direzione di ricerca, volta a esplorare una profonda integrazione tra metasuperfici, intelligenza umana e artificiale, allo scopo di costruire nuove generazioni di sistemi di metasuperfici biointelligenti. Questo per quando riguarda la trasmissione del pensiero. Per quanto riguarda la decodifica del pensiero, dei sogni e dei ricordi si intende che è possibile usare la semplice informazione sull'attivazione dei neuroni nelle varie zone del cervello per capire a cosa sta pensando in quel preciso momento la persona. La macchina può comunicarcelo attraverso concetti, parole, testo scritto, eccetera o pescando da un database di immagini per tentare di riprodurre l'oggetto del pensiero. Cioè realizzare qualcosa, come immaginato nel film del 1995 Strange Days, della regista Catherine Bigelow nel quale si immagina un futuro in cui memorie, esperienze vissute e pensieri possono essere registrati, venduti e comprati come fossero merce. Nel film uno stralunato Ralph Fiennes interpreta Lenny Nero, una sorta di spacciatore di ricordi che sviluppa una dipendenza dal suo stesso prodotto. In questo film il protagonista non solo può archiviare le esperienze delle persone in una sorta di minidisc, ma può rivivere queste esperienze direttamente nel proprio cervello grazie ad un apparecchio chiamato Squid, una specie di PlayStation per riprodurre esperienze vissute e registrate. A distanza di più di 25 anni da quel film, si stanno effettivamente ottenendo grandi avanzamenti nel campo della decodifica di pensieri, ricordi e sogni. Fra gli scienziati più attivi e ottimisti nel campo, c'è Moran Cerf, professore della Kellogg School of Management della Northwestern University, imprenditore high-tech e consulente scientifico di Hollywood, oltre che ex hacker. Con l'elettroencefalografia oggi si possono avere decodifiche anche molto precise, usando dispositivi indossabili e non invasivi, dice Moran Cerf. Per il futuro si prevedono grandi passi avanti in questo campo, tenuto anche conto che il grosso degli avanzamenti nel campo sono avvenuti in meno di dieci anni. Nel 2010, spiega Cerf, la decodifica del pensiero, dei ricordi e dei sogni era una possibilità, piuttosto remota, eppure solo qualche anno dopo due gruppi diversi lo hanno fatto davvero. Cerf si riferisce a due lavori che hanno segnato una svolta decisiva nel campo. Il primo, pubblicato su Current Biology, è del 2011. A guardarle, le immagini prodotte dal team dell'Università di Berkeley responsabile del paper sembrano davvero oniriche. Una serie di clip di persone che parlano, scene da documentari e video musicali, filmati di aeree in volo e frame di videogame. In realtà non sono letture di sogni e nemmeno ricordi. Sono la ricostruzione di quanto i soggetti osservavano nelle sessioni sperimentali, mentre la loro attività cerebrale veniva registrata con la risonanza magnetica. L'esperimento consisteva in soggetti che guardavano dei video, ma la macchina no. La macchina osservava solo l'attivazione delle aree visive degli spettatori, e da quella costruiva un nuovo filmato che poi, confrontato con quello originale, gli assomigliava molto. Il secondo lavoro citato è invece una ricerca giapponese del 2013. Pubblicato su Science, ha restituito una visualizzazione dei sogni di alcuni individui, ossia un rendering per immagini, come se potessimo guardare la bozza di un filmato di quanto la persona sta sognando e che aveva molti punti in comune con i racconti fatti dalle persone al risveglio. CERF spiega a grandi linee come funziona la metodologia generale per decodificare pensieri, sogni e ricordi. Si possono usare essenzialmente tre metodi per registrare il segnale. L'elettroencefalografia, con elettrodi posti sullo scalpo che rilevano l'attività elettrica sottostante, la risonanza magnetica funzionale che monitora l'alterazione di campi magnetici legata all'attività cerebrale e la registrazione intracranica su singoli neuroni, che fa lo stesso dell'elettroencefalografia ma con maggiore precisione ma all'interno del cranio. Le prime due sono non invasive, cioè si avvalgono di supporti esterni alla testa. La terza tecnica è la più precisa ma è estremamente invasiva e si applica solo alle persone in procinto di essere operate al cervello. In questi casi l'inserimento di elettrodi direttamente nella corteccia ha addirittura funzioni protettive per i pazienti. Nei giorni prima dell'intervento si procede infatti a mappare la posizione esatta delle funzioni cognitive più importanti, così da essere sicuri di non danneggiarle durante l'operazione. In quei momenti tipicamente si possono effettuare anche registrazioni utili per la ricerca. L'altra grande differenza di impostazione, continua Morancurf, è nella zona del cervello che si prendono in considerazione. Se intendiamo i pensieri come immagini, allora andremo a mettere gli elettrodi nella zona occipitale del cranio, dove stanno le aree visive. In questo modo si riesce a sapere cosa il soggetto sta vedendo, immaginando, o sognando nel senso visivo più stretto. Possiamo scoprire per esempio che il soggetto sta pensando a una donna con un vestito rosso che sta in piedi. Ma non sappiamo però nulla di chi sia questa donna. Gli studi di Cerf invece si focalizzano sul significato dei pensieri. Vengono usati elettrodi nella parte centrale del cervello e si decodifica il contenuto semantico dei pensieri e dei ricordi. Con questo approccio si può dunque sapere se effettivamente il soggetto sta pensando alla madre o al padre, ai figli, ecc., ma non possiamo sapere cosa sta indossando, se sta in piedi o seduta, ecc. L'ideale nel futuro sarà fare una sintesi di questi due approcci. La tecnica consiste nel far vedere al soggetto migliaia di immagini e di registrare l'attività cerebrale corrispondente. Gli algoritmi imparano ad associare un'attività elettrica tipica agli stimoli a cui è sottoposto il soggetto. Tante più volte vengono presentate le immagini, tanto più alta sarà la precisione che avremo nella decodifica. La macchina così costruisce una sorta di database che verrà poi richiamato nella fase di ricostruzione dei pensieri. Le aspettative sugli sviluppi futuri di queste tecnologie sono tante. Ora come ora, dopo un periodo di grandi avanzamenti, che hanno suscitato molto entusiasmo, siamo in una fase di piccoli passi, mirati soprattutto a migliorare gli aspetti tecnici, per ottenere registrazioni migliori, meno invasive, meno costose. Mentre nel film Strange Days, lo squid di Lenny Reno decodificava e registrava le esperienze soggettive, che poi le trasmetteva direttamente nel cervello dei fruitori. Questo oggi sembra ancora un obiettivo piuttosto lontano. La comunicazione machine-to-brain e brain-to-brain è ancora a tutti gli effetti in un campo decisamente pionieristico. Leggere il pensiero è la parte facile, afferma Andrea Stocco, professore dell'Università di Washington, a Seattle, dove co-direttore del Cognition and Cortical Dynamics Laboratory, è inserire segnali nel cervello che è complicato. Il lavoro di Stocco si focalizza proprio sulla trasmissione brain-to-brain. Di recente con il suo team ha fatto giocare tre persone, distanti fra loro e collegate solo attraverso i cervelli, a una sorta di Tetris telepatico. In questo esperimento di Tetris telepatico una persona controllava con il pensiero la posizione e l'orientamento di un tassello del gioco, mentre gli altri due partecipanti vedevano il gioco in diretta e non avevano nessun controllo sul tassello del Tetris. Basandosi sul feedback, anche questo inviato direttamente via cervello, il giocatore che poteva controllare il tassello posizionava il tassello, in ciascuna sessione, con una precisione che superava l'80%. Con la stimolazione magnetica si può agire anche su altre parti del cervello, con risultati molto diversi. Stimolando la corteccia motoria per esempio si può letteralmente prendere il controllo del corpo di qualcuno. Questo è lo stato dell'arte attuale di queste neurotecnologie. Per il futuro queste tecnologie continueranno a svilupparsi e potenziarsi, diventando sempre più precise e raffinate e daranno luogo a benefici e pericoli. Ad esempio, mentre con il linguaggio, scritto o parlato, possiamo comprendere pensieri, emozioni e intenzioni altrui e trasmettere le nostre, a distanza o a chi ci sta davanti, con il linguaggio possiamo anche mentire, nascondere i nostri veri pensieri e sentimenti, queste neurotecnologie, possono essere utilizzata per scoprire le menzogne e le finzioni. I risvolti etici non saranno banali, basta immaginare queste tecnologie in mano agli apparati di un governo autoritario o in mano ad organizzazioni criminali o terroristiche, oppure di come potrebbero cambiare i rapporti sociali, c'è da aspettarsi che questo sia uno dei grandi temi di dibattito pubblico nei prossimi anni. Per questo è importante comunicare al pubblico della loro esistenza. Ci sono tanti modi utili in cui questi dispositivi di lettura della mente potranno venire utilizzati, le applicazioni commerciali saranno pervasive. Si può facilmente immaginare cosa può fare l'industria dei videogiochi o dello spettacolo. In ambito medico, sarà possibile non solo prevedere alcune malattie neurologiche con diagnosi precoci, alterazioni del pensiero possono essere una spia d'allarme molto importante, ed oggi a volte non si riescono a rilevare coi metodi tradizionali, ma anche aiutare le persone impossibilitate, perché in coma, con paralisi estese, ma anche semplicemente sotto shock, ad essere capite dall'esterno. Guardando la situazione attuale già si intravedono segnali che in tutto il mondo, scienziati, governi, aziende e consumatori stanno collaborando per trasformare il mondo in un supercomputer gigantesco, attraverso Internet ed, in un futuro più o meno lontano, l'umanità in un enorme cervello connesso in rete, cioè una brain Internet. Uno di questi segnali è ad esempio, la Synchron ha avuto l'ok dalla Food and Drug Administration americana, per dare il via a un primo studio clinico per impiantare chip cerebrali negli esseri umani. C'è un gran fermento per potenziare le nostre capacità e collegare non solo gli esseri umani ai computer, ma anche gli esseri umani tra loro. Sono impegnati in questo campo la Neuralink di Elon Musk, Neurable, Facebook con il suo oculus ed il metaverso, Halo Neuroscience, Bitbrand Technologies, Inbrand Neuroelectronics, OpenBCI ed ovviamente i militari, perché quando si tratta di controllare la mente i militari sono sempre in prima linea. Il dado è tratto. In un futuro non molto lontano, all'uomo non resta che impiantarsi un minuscolo chip nel cervello per muovere telepaticamente le sue truppe di avatar che lavoreranno al suo posto in ufficio, comunicare con i parenti, amici e partner, ordinare una pizza, navigare online, giocare in metaversi, magari rimanendo connesso per lunghi periodi della propria vita, poter accedere non a un solo servizio gestito da un'intelligenza artificiale, ma avere la più potente delle intelligenze artificiali a disposizione che monitora, secondo dopo secondo, quel che facciamo, consigliandoci e guidandoci, cioè all'interno del cervello ci sarà una intelligenza artificiale che opera simbioticamente con il cervello biologico, ottenendo così una cognizione superumana. Si creerà una simbiosi uomo-macchina, in cui il computer o la rete non verrà percepita come una intrusione o allucinazione, ma come una possibilità che ci affianca 24 ore su 24 per tutta la vita. Tempo qualche decennio ed il tablet, smartphone, smart tv, eccetera controllo mentale potrebbero diventare gadget di uso e abuso comune. Cioè internet sarà come un sesto senso dentro il proprio cervello. E anche qui ci sarà la solita polarizzazione fra ricchi e poveri. Tutti avranno diritto a un bel microchip nel cervello per interfacciarsi con i computer o dialogare a distanza. C'è già chi ha proposto una legge che rende gli innesti neurotecnologici un diritto inalienabile dell'individuo, ma i poveri dovranno subirsi continui spot pubblicitari mentali, come avviene oggi con la versione gratuita di Spotify o di YouTube. Inoltre quando le immagini create dal computer saranno possibili proiettarle direttamente nel cervello, si potrà anche realizzare una sorta di psicoterapia digitale, con la quale sarà possibile cancellare le emozioni indesiderate e quindi cambiare i sentimenti in modo mirato. Questo può anche comportare il rischio che gli hacker possono attaccare il cervello delle persone ed eventualmente con la minaccia di cancellarne i ricordi, chiedere un riscatto. Potrebbe essere un prossimo campo di attività criminale. Un altro problema di questa neurotecnologia usata in questo modo è che potrebbe essere usata anche come strumento di struttura. Le neurotecnologie, soprattutto se fuse con l'intelligenza artificiale, sono una grande opportunità per l'umanità. Potrebbero estendere di molto le potenzialità dell'individuo e migliorare parecchio la sua vita, ma possono essere anche un grande rischio. Oltre al lacking delle menti si potrebbero usare anche per il condizionamento emotivo, la manipolazione del pensiero e per il controllo delle masse da parte di governanti senza scrupoli, fino ad un vero e proprio incubo come la collettività dei Borg nei film e nelle serie di Star Trek. Ogni nuovo ed estremamente potente progresso tecnologico ha il potenziale per risultati sorprendentemente positivi e pericolosi. L'energia nucleare, i satelliti, l'ingegneria genetica, l'intelligenza artificiale, sono solo alcuni esempi di tecnologie all'avanguardia che hanno il potenziale di portare grandi benefici, ma che possono essere anche molte pericolose. Le interfacce cervello-computer non fanno eccezione. Abbiamo individui eccezionalmente intelligenti che creeranno tecnologie incredibili. Ma servirà che siano affiancati anche da altri individui eccezionalmente sensibili, onesti ed etici per tenerle d'occhio e assicurarsi che l'umanità non ne sia danneggiata o addirittura messa in pericolo di estinzione. Per concludere, secondo Elon Musk, con le neurotecnologie verranno inoltre superati i timori sulla singolarità tecnologica, trattata ampiamente in questo canale. Infatti se le varie intelligenze artificiali sono separate da noi, e molto più intelligenti di noi, come possiamo essere sicuri che non abbiano obiettivi contrari agli interessi dell'umanità? Se otteniamo una stretta simbiosi, l'intelligenza artificiale non sarà un'altra cosa rispetto a noi, saremo noi stessi. Possiamo scegliere se essere lasciati indietro, e diventare così inutili da essere trattati alla stregua di animali domestici, ma se troviamo un modo per entrare in simbiosi con l'intelligenza artificiale essa non sarà un problema ma semplicemente una parte di noi stessi. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e dalla prossima.